Ben trovati, parlando di startup, alzate la mano a chi di voi sa che cos'è un unicorno? Uno, due, beh, qualche mano, lo spiego agli altri allora. L'unicorno è una startup, quindi un'azienda nuova, tendenzialmente ha forte carattere innovativo, che raggiunge in poco tempo il valore di un miliardo di dollari. In Italia praticamente non c'è riuscito nessuno, o meglio, c'è riuscito una sola persona, che è il prossimo ospite del Wide Next Fest. Quando parliamo di lui, parliamo probabilmente dell'unico startup di successo che abbiamo avuto nel nostro paese. Quindi per me è un grande piacere chiamare sul palco del Wide Next Fest Federico Marchetti. Benvenuto. Stavo facendo una storia su Instagram. Stavo facendo una storia su Instagram, prego, accomodati. Pensavo che ci mettessi di più. Ah, ok, ti avevo detto solo un minuto. Allora, Federico è il fondatore, nel 1999 ha fondato Yux, che è un'azienda che mette insieme l'e-commerce da una parte e il fashion dall'altra. Lui ha puntato, come secondo me in maniera corretta bisognerebbe fare, non sul inventare una nuova Facebook, che probabilmente in Italia non ci sono le caratteristiche per farlo, ma ha deciso di puntare su un settore tipicamente italiano, come era il fashion, e portarlo nel ventunesimo secolo. Portarlo nel digitale. Poi, insomma, Yux è cresciuta, è cresciuta tantissimo, vi dicevo prima, un miliardo di dollari di valutazione. E nel 2015, corretto, c'è stata la fusione con un altro gigante dello stesso settore, che è Neta Porté, e oggi Federico è andato oltre confine, ritornando ai temi del One X Fest di quest'anno, e nasce il colosso dell'e-commerce fashion, che è Yux Neta Porté, che oggi ha un valore di fatturato circa di 2 miliardi di dollari, corretto? 50% mobile, è vero? Hai studiato. Ho studiato, benissimo, è passato lui davanti al professore e sarei stato. Senti, Federico, allora, tu hai preso, hai cominciato a lavorare in un settore, quello della moda, che era molto diverso da come lo è adesso. Diciamo, sei passato da una moda analogica a una moda digitale. Ecco, in che modo, come è cambiata la moda in questi anni, e soprattutto in che modo le tecnologie hanno influito sulla moda stessa? Allora, quando ho cominciato, era il 1999, ed effettivamente la moda e internet erano due mondi completamente e diametralmente opposti, cioè proprio non si guardavano, non si parlavano. E un pochino il mio ruolo è stato proprio quello di metterli insieme, di unirli. Quindi ho fatto un po' da link tra le due cose che erano uno da una parte e uno dall'altra. Nel 2017, quindi 18 anni dopo, cosa è cambiato? È cambiato tutto, anche un po' per colpa o merito mio, nel senso che comunque in questi 18 anni sono stato una specie di piccola gente di cambiamento del mondo della moda. Per la modestia? No, piccolo, perché comunque abbiamo influito, ma non siamo stati gli unici, insieme a tanti altri fattori. Adesso, come adesso, non c'è, penso, amministratore legato, proprietario, designer, stilista, che non abbia in cima alla sua agenda il digitale. Quindi, diciamo, tutti parlano del digitale, tutti devono capire come fare il digitale. Quindi è cambiato completamente, si è rigirata la frittata. Tutti parlano di omni-channel, cioè quindi la parola chiave adesso nel mondo della moda è omni-channel, quindi unire i negozi fisici ai negozi virtuali. Infatti noi da 3-4 anni ci stiamo lavorando assiduamente, quindi siamo anche noi il ponte di collegamento tra l'online e l'offline. Quindi unendo la boutique di Valentino in via Montenapoleone con valentino.com, che è fatto da noi, dove noi facciamo un po' da trade union tra le due esperienze, in modo tale che il cliente abbia un'unica esperienza, perché il cliente è uno solo. La moda, rispetto a quella, diciamo, di un tempo, è diventata molto più fluida, sicuramente, ma ci sono molte più contaminazioni, basta guardare, non so, l'ultima sfilata di Gucci, o anche prima dell'ultima sfilata, quindi la contaminazione tra il mondo dell'arte, il mondo del design. Il Salone del Mobile ormai sono tutti i brand della moda durante il Salone del Mobile, mentre tempo fa non c'era nessuno. La società in generale, secondo me, è diventata molto più fluida, nel senso che adesso si parla, l'arte e la scienza sono molto contaminate, ad esempio l'arte adesso parla sempre di intelligenza artificiale, tutti gli artisti adesso stanno facendo delle opere sull'intelligenza artificiale, che uno dice, ma come mai? La moda parla di design, il design parla di moda, il lifestyle parla di medicina, l'economia parla di finanza, eccetera, eccetera. I sessi si stanno sempre più toccando, il gender, quello di uno solo. Forse si è passato da un mondo ideologico ad un mondo tecnologico. Tutto questo perché è successo? Perché il digitale, almeno quando ho cominciato io, era un settore, era un settore a sé. Io mi ricordo proprio che era una specie di mondo distante. Adesso invece il digitale ha permeato tutta la società, non soltanto la moda, tutto. è diventato un po' una specie di matrix, è diventato una specie di matrice, per dire l'italiano, una specie di backbone che condiziona anche il futuro dell'antropologia. Pensa al mobile. Tu hai detto prima che la metà del nostro fatturato viene attraverso il telefonino, il cellulare. Ma perché? Perché il cliente è lì. Chiaro, chiaro. Sì, sì, no, sull'antropologia mi... Come sfondi una porta aperta? Perché quello che ripeto sempre è che noi siamo sostanzialmente dei cyborg che con gli smartphone abbiamo delle capacità che madre natura non ci ha dato e ce l'abbiamo sempre, batteria permettendo e wifi permettendo. Senti una cosa, tu prima hai detto molto, tutti gli amministratori delegati, i leader delle grandi aziende di moda, hanno in cima alla lista delle cose, alla to-do list, il digitale. Tutti parlano di digitale. Domanda cattiva, ma tutti parlano e sanno cosa dicono? Cioè, vedi delle strategie chiare o a volte è solamente un modo per sembrare contemporanei? Domanda cattiva. Vabbè, puoi anche rispondere no comment. Andiamo ancora dopo. No, no, rispondo. Non facciamo noi. No, è vero, dipende anche molto dalla generazione. Nel senso, come in tutte le rivoluzioni, ci sono gli innovatori, ci sono quelli che seguono. E quindi anche nelle case di moda ci sono quelli che innovano, ci sono quelli che seguono. La differenza dipende tanto dalla generazione. Cioè, nel senso che alcuni, una generazione, diciamo, passata, fa un po' più fatica a interpretare. Ok, perché un passaggio di quello che ha detto prima Federico è importante, secondo me, quando poi si racconta UX Netaporte, è che quello che noi vediamo è sostanzialmente un negozio online dove possiamo andare a comprare dei capi. C'è anche tutto un altro lavoro che forse è meno conosciuto, ma penso comunque importante, con i brand di moda che affiancate e aiutate a crescere sul digitale. Quindi non solamente attraverso i vostri canali, ma diciamo più a 360 casi. Per questo vi dico che secondo me il vostro contributo non è piccolo, è un contributo grande perché aiutate la moda proprio a entrare nel nuovo secolo. Senti, il Festival di Word quest'anno è dedicato al tema dei confini. A che, quali sono oggi i confini di UX Netaporte? Perché le aziende, abbiamo visto, lo vedremo dopo, abbiamo anche un intervento di IBM, vivono molto sul continuo cambio di pelle e il continuo cambio dei confini del loro campo di gioco. Com'è la situazione attuale della tua azienda? Allora, un'azienda che è innovatrice, innovativa, come la nostra, nel senso che nel 1999, quando ho cominciato, non c'era nessuno, molto semplice, quindi l'innovazione per definizione. Ma dopo il 1999 abbiamo continuato ad innovare ogni due per tre, quindi ci siamo inventati quello che dicevi tu prima, quello che aiutiamo anche i brand a fare il loro negozio, quello che mi hanno inventato nel 2005, quindi erano dodici anni fa. Quindi il valentino.com, powered by UX, adesso powered by UX Netaporte, come pure armani.com, eccetera, eccetera. Ci siamo inventati il famoso see now by now, che nel mondo della moda da due anni se ne parla, ma noi l'abbiamo fatto nel 2007 con le sfilate a New York. Siamo andati in Cina per primi nel 2010, prima di chiunque al mondo siamo andati in Cina come retailer internazionale. Abbiamo fatto un fashion film nel 2008 con Nick Knight, mi ricordo che ancora non si parlava di fashion film, adesso c'è ormai fashion film ogni secondo. Quindi insomma, chi è innovativo lo è un po' nell'anima e continua a farlo. E quindi c'è un po' questa propensione a essere sempre i primi a fare certe cose. Anche l'ultima fusione che abbiamo fatto è innovativa, perché prima non ne avevamo mai fatti nessuno. Quindi può essere un'innovazione di modello di business, può essere un'innovazione di marketing, può essere un'innovazione di servizio, come ad esempio adesso abbiamo inventato che il corriere aspetta fuori di casa, così tu non devi neanche richiamare il corriere e quindi neanche sbatterti per avere il corriere che ritorna se non ti piace il capo. Quindi ti aspetta fuori per un quarto d'ora, se non ti piace glielo restituisci subito senza dover richiamare eccetera eccetera. Quindi l'innovazione tocca un po' tutto. Quindi i confini per un'azienda innovativa sono molto più labili, perché ogni volta tu devi battere i confini. È anche vero però che direi una fesseria, se dico che noi non abbiamo confini. No, certo. Perché non è vero. Penso che forse il confine più grande che abbiamo sta nei nostri valori e cioè nei valori delle persone che lavorano da noi. Quindi i confini li fanno le nostre persone. Quindi le 4.300 persone hanno il valore della diversità, hanno il valore della parità di genere ad esempio. considera che su 4.300 persone il 61% sono donne. Ma non solo il 61% sono donne, ma anche nei top manager, nei top 200 persone su 4.300 il 50% sono donne. Nell'executico miti il 50% sono donne. Le donne sono pagate il 14% in più degli uomini. Questo è il dato che mi stupisce di più. Eh sì, è abbastanza una mosca bianca. Quindi insomma diciamo tra i nostri valori c'è ad esempio l'education e il give back. Quindi ad esempio noi ci riteniamo abbastanza fortunati per dove siamo arrivati, per quello che abbiamo fatto e quindi ad esempio adesso stiamo impegnandoci parecchio sia in Inghilterra che in Italia perché noi siamo ormai un'azienda italo-inglese nel insegnare il codice all'università. Abbiamo fatto questa partnership con l'Imperial College di Londra dove andiamo a insegnare alle giovani ragazze il codice perché ci sono poche donne in tecnologia. Come pure alla Fondazione Golinelli a Bologna, come pure abbiamo fatto tante cose. Che è straordinaria la Fondazione Golinelli. La conosci? Sì, sì. Fatta da un signore di oltre 90 anni che è più giovane di tutti noi. Come spesso accade. È veramente straordinario. Quindi insomma, questi sono i nostri confini, i valori. Beh sì. Tra l'altro trovo anche molto in comune con il brand che gestisco adesso che è Wide dove il confine non è più... Anche questo è Wide, One Express. I nostri confini sono i nostri valori e non sono solamente i prodotti che facciamo. E invece a livello personale tu hai detto sono partito nel 1999 e non c'era nulla. prima ci dicevamo con un 50% di passione per la moda e con un 50% di passione per la tecnologia e per il digitale. Ecco, e hai superato molti confini anche geografici visto anche la recente fusione. a che punto ti senti del tuo percorso professionale? Allora, Ux sta per diventare diciottenne. Gli legare demo la macchina. Netaporte è altrettanto. Mentre Ux Netaporte che è questo nuovo gruppo che è nato da due anni del 2015 e quindi io mi sento all'inizio di una nuova storia perché è vero che manterremo e manteniamo Netaporte separato da Ux separato da Mr. Portis quindi sono tutti brand che dal punto di vista del cliente rimangono tali e quali come erano prima ma dal punto di vista del dietro le quinte stiamo ricostruendo abbastanza coraggiosamente una nuova azienda completamente nuova quindi stiamo tutti noi stiamo investendo su cinque anni quasi un miliardo di euro tutto in tecnologia e logistica quindi diciamo per dotare Netaporte Ux eccetera eccetera di una macchina formidabile e questo lavoro qui lo stiamo quasi completando quindi è tutto nuovo però la verità è che oltre diciamo ai miliardi alla tecnologia al back end eccetera eccetera mi sento nuovo perché perché lavoro con 4.300 persone che sono dei veri talenti e che quindi tutti i giorni sono dei compagni di viaggio il mio è un viaggio e quindi io li vedo un po' tutti come compagni di viaggio e sono molto fortunato di avere certi compagni di viaggio alcuni da 17 anni tanti da 17 anni nonostante si vocifere in giro che io sia molto tosto però c'è un sacco smentiamo no beh nel senso che è ovvio che c'è una selezione naturale anche un po' no ma poi insomma è ovvio che le responsabilità richiedono mancanza di pazienza a volte però dico ci sono tantissima gente che lavora con me da 17 anni come pure ho incontrato gli inglesi con cui mi sono trovato benissimo con tanti di loro e così via quindi tutti i compagni di viaggio perché il viaggio è quello che parlando di confini il viaggio è quello che è più affascinante no in tutta questa cosa qua il viaggio ha un inizio ma ha una fine incerta e la cosa più bella è il durante no quando tu ti succedono di tutte le cose le variabili che non avevi preventivato le cose che non ti aspettavi cioè quello che non ti aspettavi è la cosa più anche più divertente che ti riempie di adrenalina tutti i giorni che è molto diverso dal turismo cioè io sono sempre stato un viaggiatore anche fisicamente e figurativamente che è molto diverso dal turismo che invece è quello il turismo viene dal tour cioè quando ho scoperto che la terra era tonda facevi il tour quindi sapevi l'inizio sapevi la fine io non sono mai stato un turista sono sempre stato un viaggiatore bella immagine Federico per l'ultimo numero di guardia ha scritto un pezzo perché visto che insomma siamo sempre alla continua ricerca di chi potrà sostituirci quindi noi cerchiamo anche gli imprenditori di successo firme nuove confesso che ci ho messo tanto ci hai messo tanto? sì nel senso che non farò il giornalista sicuro però il time to market è eccessivo cioè ci ho messo tanto perché volevo farlo bene bene grazie prendo due estratti e ti chiedo di commentarli nel pezzo scrivi in genere le imprese italiane che vanno all'estero mettono responsabili italiane nelle filiali noi lo consideriamo un errore culturale perché beh cioè non rappresentano il brand se è un brand italiano non rappresentano il brand all'estero la cultura del brand all'estero faccio l'avvocato del diavolo no l'importante secondo me è sempre il cliente cioè io sono sempre partito dal concetto del cliente nel 1999 io mi sono inventato Yux perché volevo quel negozio un po' particolare dove c'era il fine stagione le collezioni in corso le cose che non c'erano quindi sono partito proprio dal cliente io tuttora quando faccio le strategie quando mi invento il piano a 5 anni parto sempre dal cliente quando mi invento le cose nuove i servizi innovativi tutte le cose quindi il cliente è tutto e quindi se tu parti da questo presupposto tu hai bisogno dei cinesi per dialogare col cliente cinese tu hai bisogno dei giapponesi per dialogare col cliente giapponese tu hai bisogno degli inglesi per dialogare col cliente inglese perché comunque si capiscono meglio e quindi da noi ci sono 75 nazionalità 8 uffici sparsi per il mondo e quindi abbiamo il capo del Giappone che è una giapponese il capo della Cina che è una cinese eccetera 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 e penso che per essere più vicino al cliente penso che questo qui sia la ricetta giusta è ovvio che perdi un po' di controllo no? perché il problema è sempre quello del controllo della delega certo senti altro tema legato anche al concetto di confini nel pezzo scrivi che quando siete entrati in Cina c'erano to do list di 101 attività da svolgere quali sono state quelle più faticose e sfidanti? in realtà tutte e nessuna la cosa più difficile è stato il coordinamento delle 101 perché tu ne sistemavi una e se ne apriva un'altra e poi dopo ne sistemavi quella e poi dopo si apriva quell'altra quindi il coordinamento 301 perché sembrava una specie tenere ferme tenere ferme tutte abbastanza complicato e nel sempre nel pezzo chiudiamo la parentesi articolista dici fai un parallelo tra la Toscana del Rinascimento e la Silicon Valley dicendo che sostanzialmente che la Silicon Valley è la nuova Toscana dell'epoca del Rinascimento cioè un luogo ad alto tasso di innovazione e che poi dà diciamo carburante a tutto il mondo per 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 evolversi siamo a Firenze io ti devo chiedere un commento su questa cosa qui cioè che cosa intendi quando appunto la Silicon Valley è la nuova è la nuova Toscana per quanto riguarda il Rinascimento e se secondo te l'Italia può essere un luogo dove avvenga un nuovo Rinascimento magari digitale allora ci sono un po' di analogie tra il Rinascimento del Quattrocento perché ti in qualche modo sei da una parte una speranza e dall'altra parte un problema perché sei l'unico che ce l'ha fatta infatti non è bello infatti ti dico la verità che io non mi sento bene quando tutte le volte che mi presentano come l'unico unicorno a parte che mia figlia ama gli unicorni questa è l'unica cosa buona però non mi sento bene non è una cosa bella perché è un peccato allora c'è ci sono un po' di analogie tra il Rinascimento del Quattrocento Toscana Firenze e quello che succede nella Silicon Valley allora c'era l'arte e quindi i mecenati i signori eccetera eccetera adesso invece c'è la tecnologia che era quello un pochino che dava tutto questo dinamismo a queste aree e a queste zone fermo restando che la Silicon Valley tu lo sai di sicuro però la Silicon Valley nel dopoguerra era un campo di prugne c'è solo prugne quindi diciamo che quindi volendo uno potrebbe partire dalle prugne anche non so qua in Italia cosa c'è però dove sono le prugne in Italia un campo di anguille non so vicino a Ferrara poi c'è stato anche un signore che io adoro personalmente che si chiama Leonardo da Vinci che un pochino sta un po' in mezzo è un po' il link tra l'arte e la tecnologia perché comunque era sicuramente un artista ma era anche una persona di grande tecnologia in una qualche maniera quello che ho scritto lì nel pezzo ho detto che è stato un pochino chi ha visto internet prima di tutti perché quello che scrivevo è che ad un certo punto del mondo con le parole sue che non vi sto a ripetere ad un certo punto tutti parleranno la stessa lingua dicevo e tutti si capiranno e tutti avranno una relazione tra essi stessi e questa lingua effettivamente è quello che è diventato internet internet è questa lingua no? sicuramente Leonardo aveva una una Firenze che è molto simile a quella che adesso è la Silicon Valley quindi allora c'erano i mecenati c'erano gli artisti c'erano tutta questa attività come pure nel Rinascimento c'era tutta questa attività ed era un viaggiatore quindi Leonardo era un grande viaggiatore perché comunque a parte che era un figlio illegittimo cioè Leonardo da Vinci era figlio illegittimo era penso la domestica che diciamo era rimasta incinta del del signor da Vinci del signor da Vinci quindi pensa che storia e lui da grande viaggiatore infatti andò subito a Milano poi dopo andò a Parigi eccetera eccetera quindi il concetto del viaggio della curiosità che dicevo prima Leonardo e della ricerca della diversità poi e della ricerca della diversità quindi questo qui ce l'aveva molto dentro dentro se stesso quello che mi è sembrato un po' in Italia per venire alla seconda parte della tua domanda è che negli ultimi vent'anni mentre nel dopoguerra l'Italia era super internazionale si parlava l'inglese la dolce vita Roma tutte le star nell'ultimo ventennio si è un po' accartocciata su se stessa quindi l'Italia parla molto l'italiano e quindi gli italiani si è richiusa dentro i propri confini si è richiusa dentro i propri confini che è ovviamente un grande peccato ma questo qui non soltanto nella tecnologia nelle aziende ma anche ad esempio nella musica nel senso che nella musica ci sono tanti cantanti italiani che parlano solo che cantano solo in italiano ad esempio l'ultimo adesso che mi fa molto piacere che ho scoperto è Giovannotti che lo conosco anche abbastanza bene e che sta facendo l'album con Rick Rubin che è un altro che conosco abbastanza bene perché vuole sfondare negli Stati Uniti giusto bravo spero tanti auguri ma secondo te perché ci abbiamo paura cioè perché ci siamo chiusi un po' in noi stessi perché se uno guarda poi la storia dell'Italia e della crescita economica del paese senza andare troppo in massimi sistemi però quando arriva internet noi facciamo il passo cioè cominciamo a andare indietro ci siamo ci siamo trovati impreparati a quella sfida lì non le logiche di internet non si applicano a come funziona il sistema in Italia qual è secondo te la spiegazione di questa coincidenza che forse non lo è diciamo che abbiamo avuto vent'anni anche diciamo politicamente in cui internet probabilmente non era esattamente la priorità e un pochino l'Italia si è un po' si è chiusa anche culturalmente cioè gli eroi dei giovani ragazzi italiani non necessariamente sono degli eroi positivi a cui devi aspirare perché sono a volte anche degli eroi creati dalla tv che non sono necessariamente quelli giusti per poter guardare oltre confine quindi è un problema anche di classe dirigente è un problema è un problema culturale la cultura italiana è un po' cambiata senti tornando invece a parlare di Yux di Yux Netta Porte tu tra le varie innovazioni che che hai portato e che non hai che non hai citato prima c'è quella dell'intelligenza artificiale mi spiego tutti parte del successo dei siti di e-commerce in generale e del tuo vive sul sistema di raccomandazione cioè sull'idea che io sto cercando un capo un libro un oggetto qualsiasi e o non lo trovo in quel momento lì o lo trovo ma il sistema mi consiglia allora ti potrebbero stare bene quelle scarpe oppure se ti piace questo libro compra di questo disco gran parte del successo degli e-commerce funziona su quello oggi si parla tantissimo di intelligenza artificiale che effetto ti fa pensare che tutto sommato per voi è quasi il pane quotidiano da ormai diversi anni perché quei sistemi sono proprio di intelligenza artificiale cioè assimilano informazioni dalla navigazione degli utenti per poi riproporre dei consigli allora qui un pochino mi dispiace deluderti nel senso che non so se si è capito però mi ritengo non soltanto una persona di tecnologia ma anche un umanista e quindi ho sempre cercato di trovare un giusto bilanciamento tra le due cose ti faccio un esempio nel 2049 Harvard dice che l'intelligenza artificiale scriverà un best seller 2049 è l'anno del nuovo Blade Runner che sta per uscire no? Blade Runner il primo Blade Runner che ho rivisto recentemente parlava del 2019 quindi era Blade Runner 2019 cioè domani quello che si vede nel Blade Runner nel primo 2019 non è quello che sta succedendo adesso nel 2017 cioè le macchine che volano non ci sono ancora e oggettivamente non piove no c'è il car sharing eh? c'è il car sharing però e non piove dalla mattina alla sera ad esempio ma meno male qua estate questo per dire è che tante cose secondo me a volte c'è una forma un po' di fanatismo e di esagerazione allora noi lavoriamo tanto con l'intelligenza artificiale siamo i primi che usiamo IBM Watson ad esempio su tutta la parte di intelligenza artificiale applicata al lusso quindi per carità big data abbiamo 3 milioni di clienti quindi puoi immaginare tutti i gusti le tendenze degli italiani rispetto agli inglesi rispetto ai francesi quindi c'è un mondo che però è sempre lo mettiamo al servizio del nostro cliente mai all'esterno però è vero anche che il talento umano non è soppiantabile cioè non può essere sostituito perché comunque è molto più sorprendente quindi è il bilanciamento tra le due cose tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana che secondo me porta al massimo del risultato ti faccio un esempio gli stylist noi abbiamo degli stylist Netta Porte Mr. Porter Jux eccetera eccetera molto bravi molto sofisticati sono 17 18 anni che mettono insieme dei capi diciamo prendendoli dagli armadi più grandi del mondo l'intelligenza artificiale sta imparando da loro a come mettere insieme i vari gusti però sta imparando da loro e loro comunque hanno sempre il tocco finale di dire ma questa qui è un nuovo trend è una cosa nuova che è appena uscita che l'ho vista in quella sfilata eccetera eccetera quindi è il binomio tra le due cose che può funzionare meglio ma non è che sono due mondi completamente distanti diversi quindi a proposito dei confini è forse appunto il confine sempre più labile tra l'intelligenza umana e artificiale che può essere poi vincente il personal shopper noi abbiamo anche un abbiamo dei buonissimi clienti quindi abbiamo un team di personal shopper i personal shopper stanno usando l'intelligenza artificiale per anche dare dei consigli ai nostri migliori clienti ma il consiglio finale se quello dell'intelligenza artificiale non sta in piedi lo danno loro e così via ad esempio abbiamo venduto attraverso un personal shopper che ha usato Whatsapp con cui stiamo facendo una partnership nel Medio Oriente abbiamo venduto un orologio da 130.000 euro ma quello che l'ha venduto non è l'intelligente artificiale è il personal shopper non ti posso chiedere la natura della partnership con Whatsapp? no con Whatsapp stiamo cercando di siamo una delle prime aziende con cui stiamo lavorando è uscita la notizia penso qualche settimana fa quindi la posso dire per cercare appunto di spingere oltre il confine di Whatsapp e quindi di andare oltre anche dal punto di vista transazionale eccetera eccetera e vedremo delle cose il prossimo anno quindi sì senti parlando sempre di tecnologie abbiamo parlato di intelligenza artificiale e mi è chiarissimo appunto l'idea che da sola non può fare nulla ma serve comunque un continuo dialogo tra l'intelligenza diciamo biologica e quella sintetica ma quali sono le altre tecnologie che in questo momento più di tutte vi stanno dando una mano nel vostro business o sulle quali tu pensi di poter puntare di più nei prossimi anni per crescere ancora beh è un po' la risposta che hai già detto tu prima cioè quello del mobile cioè del telefonino è proprio dello smartphone è proprio la nostra ossessione perché sta cambiando il mondo perché parte ormai del backbone sociologico antropologico di tutti i giorni qui siamo stati abbastanza bravini nel senso che nel 2006 mi ricordo che abbiamo messo come parola chiave del nostro piano la parola M-commerce cioè quindi il mobile ed è nel 2006 quindi fa conto che l'iPhone è stato lanciato nel 2007 quindi un po' di bravura un po' di fortuna noi ci stiamo lavorando dal 2006 e quindi è ovvio che se ci lavori da tanto vuol dire che arrivi anche prima arrivi anche prima senti un'ultima cosa in sala ci sono moltissimi ragazzi allora proviamo a girarla in positivo sul fatto di essere l'unico unicorno quali consigli ti sentiresti di dare a dei ragazzi che vogliono lanciarsi in un'avventura penso che tutti si accontenterebbero della metà del successo anche di un quarto però anzi qualcuno legittimamente ti vorrà superare e quindi come fa a superarti? Due o tre consigli per gli acquisti allora il primo se non li dai te allora il primo è un riassunto di quello che ho detto prima cioè nel senso che si parte dall'Italia perché comunque l'Italia ha dei vantaggi competitivi enormi come dicevi tu prima ma non bisogna fermarsi in Italia cioè bisogna guardare oltre quindi primo consiglio cioè se io io l'ho aperta che era il primo giorno in italiano in inglese e il primo giorno era in Italia in tutta Europa i primi ordini sono arrivati dall'Olanda non mi chiedere come mai perché gli olandesi è rinomato che non sono particolarmente stylish però è successo e grazie a questi ordini arrivati dall'Olanda io ho avuto accesso al secondo round di finanziamento altrimenti avrei chiuso bottega perché lì poi era scoppiata la bolla quindi se non l'avessi fatto probabilmente anzi quasi sicuramente non sarei qua a raccontarti la storia quindi guardare oltre all'Italia dal punto di vista di mercato di sbocco perché l'Italia è troppo piccola per avere un progetto ambizioso il secondo è le persone cioè nel senso le persone cioè non si riesce più a essere one man show è impossibile il mondo è troppo complesso troppo veloce hai bisogno di troppa velocità troppa flessibilità cioè quello che si faceva agli imprenditori degli anni 60 dei 70 che facevano tutto loro è impossibile replicarlo quindi funzionano soltanto i team e quindi mi raccomando sulle persone perché sono quelle che poi fanno il successo e l'insuccesso non mi ricordo c'era una famosa persona io odio fare le citazioni infatti mi dimentico sempre chi le fa ma non è che me ne voglia appropriare semplicemente che me ne dimentico però c'era una persona che ho letto recentemente una cosa molto interessante che diceva se sarà un grande successo sarà il successo di tutta la mia squadra se sarà un grande fallimento sarà il mio fallimento è vero questo è vero e poi ovviamente tutte parole belle eccetera eccetera però bisogna anche un po' give back quindi di nuovo l'imprenditoria italiana dove c'era l'imprenditore che si teniva tutto per sé non funziona più io nel mio caso ho diciamo restituito gran parte del valore creato a tutte le persone che hanno lavorato con me cioè abbiamo distribuito giusto per andare al sodo abbiamo distribuito mi sembra più di 250 milioni di euro a 200 persone dentro l'UX infatti alcuni sono in vacanza e non tornano più non li ho più visti ahimè alcuni infatti mi è dispiaciuto altri dico bontaloro bene io ringrazio Federico Marchetti grazie a tutti grazie grazie a tutti